Come sta il sinistro magico di Luca Clemenza? Bene, bene, tutto a posto. Dovrebbe essere usato un po' di più? Assolutamente sì, sì. Deve essere interpellato di più, diciamo. Il presidente lo ha detto nel dopo partita, abbiamo questi numeri, sfruttiamoli. Sì, assolutamente, però come dico sempre non è facile. Se fosse così facile finiremmo tutte le partite 3-4-0, però so che comunque sia quando ne ho la possibilità la prima cosa che penso che faccio è quella di tirare verso la porta. Ti chiedo una cosa Luca, potessi scegliere tu, resteresti esterno offensivo, alto a destra, oppure trequartista per andarti a cercare la giocata tra le linee? Ma guarda, sono due ruoli che comunque sì, anche come interpretro la destra, come vuole il mister è quella di accentrarmi e giocare tra le linee. Quindi partire dal centro, partire da destra non cambia più di tanto. Cambia invece un'eventuale vittoria a Lucca, fondamentale? È fondamentale perché sappiamo che la posta è in paglia, sappiamo che di là c'è l'Entella che si scontra con il Cesena, quindi noi non abbiamo tante alternative alla vittoria. Ti dico una cosa però, il Cesena alla prima di campionato in casa della Lucchese ha perso, o meglio ha battuto la Lucchese, quindi la Lucchese ha perso. Poi Modena, Reggiana, Entella addirittura ha perso 3-0, l'Ancona ha pareggiato, il Siena ha perso, è un campo difficile? È un campo difficile, soprattutto dopo gennaio, che la Lucchese si è rinforzata molto e sta portando a casa ottimi risultati, però sappiamo che comunque sia, che sia la Lucchese o qualsiasi altra squadra, che adesso si entra in una fase del campionato dove tutte lottano per qualcosa, chi per salvare la categoria o chi per ambire una posizione ai play-off. Sappiamo che sarà una partita difficile, come tutte le altre, che sia la Lucchese o le altre squadre che andremo ad affrontare, però noi dobbiamo pensare a noi e dobbiamo pensare a portare a casa i tre punti e a null'altro.